E da parte del rumore, da parte della regione, da parte delle istituzioni tutte, da parte del sindacato che dice che sia unito ma non è unito, da parte del dividatore ci siamo stufati tutti quanti. Una città come Termi che è cresciuta con la chimica in maniera incredibile, fatta a questi quattro delinquenti che conosciamo bene i nomi e i cognomi, nessuno li ha fatto niente, né dalla parte della Totte che ce l'ha parlato all'inizio, sembrava che cosa facevano, era tutto lei, non ha fatto nulla, le persone che sono successe poi hanno fatto lo stesso risultato, che ci dimentichiamo sempre noi. Promesse tante, siamo al 94esimo, anzi siamo ai supplementari e poi ovviamente il risultato è il risultato. Va bene, allora io ho chiaramente la questione che riguarda l'ultima azione 3, o fa i problemi della chimica, sono oggetto di interesse dell'istituzione comune in questa consigliatura e nelle precedenti abbiamo approvato, votato atti di indirizzo che sollecitavano le istituzioni preposte e soprattutto il tavolo aperto da Tempi che era sommise ad affrontare questa cosa. Sappiamo ed è noto a tutti che la questione non è ancora risolta, quindi è comprensibile la vostra occupazione e la vostra presenza qui. Il motivo per il quale io, come Presidente del Consigliario, sono venuto incontabili è perché se ritenete la conferenza dei Presidenti di Palazzo Spada, quindi Presidente del Consigliario e dei gruppi di consigliari, sono disponibili a incontrare oggi una vostra delegazione presso la sala della conferenza dei Presidenti e a valutare le vostre richieste e distanze. Di solito, vi voglio dire che questa è una concessione, è una disponibilità particolare di una problematica di tutto il nostro territorio, perché di norma le richieste di indirizzo devono pervenire la presidenza precedentemente alla situazione del Consiglio Comunale, però considerata la rilevanza di questa situazione, vi volevo comunicare che abbiamo anche questa ulteriore disponibilità, quindi se voi ritenete una vostra delegazione, non tutti, per motivi anche di sicurezza, igiene e sanitaria, siamo ancora a rischio Covid, una vostra delegazione che va ricevuta dalla conferenza dei Presidenti, quindi ora vi dirò una trattura di seguito, procederemo con una delegazione che stabilirete voi. Grazie.